Un'altra cosa che vediamo su come funziona YouTube è la true view, avete presente lo skip ad? Cioè questa è la cosa che avremmo tutti insegnato quando guardavamo la pubblicità in televisione, la possibilità di mandare avanti e non guardare la pubblicità. Il signor, non so chi è qua, a cuve, le lenti a contatto, paga solo se tu la pubblicità te la vedi. Quindi se fai skip lui non paga, quindi fai contenti tutti perché chi vuole vedere il video e non vuole vedere la pubblicità non la vede. Chi vuole pagare per fare pubblicità paga solo se la persona si è vista esplicitamente la pubblicità, infatti costa un sacco questo tipo di pubblicità. E YouTube fa la gestione, diciamo fa da intermediario e porta a casa dei bei soldini per ogni visualizzazione.